Il 2020 ci toglie un altro pezzo di storia. La scorsa notte ci ha lasciati Paolo Rossi, eroe del Mundial di Spagna del 1982, uno dei principali protagonisti di quella squadra che riuscì a superare corazzate come Brasile, Argentina e Germania, risvegliando quel senso di appartenenza al tricolore di tutti gli italiani. Sempre lì, in agguato, pronto a dare la sua stoccata vincente, a suon di gol trascinò gli azzurri sul tetto del mondo, diventando pablito. Da allora era rimasto nei cuori di tutti, non solo degli appassionati di calcio. Ogni volta che appariva in tv, donava un inconscio senso di piacevole orgoglio nazionale. Un calciatore nato per gonfiare la rete, un uomo garbato, dotato di grande umanità. Il suo sorriso spontaneo, le braccia verso il cielo, azzurro come la maglia che ha indossato. E proprio dentro quella maglia, numero 20, non c'era soltanto lui, ma tutta l'Italia. Zoff, Gentile Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni e Graziani. Non una squadra di più, con Berzotti in regia. Non ci prendono più, diceva impettito il presidente della Repubblica, Pertini. Addio, pablito. Indimenticabile il ricordo di Franco Selvaggi che con lui vinse quel mondiale. Era un po' il nostro alfiere, il simbolo di quel mondiale. Sono molto rattristato. Me l'ha comunicato mia figlia stamattina ed è una giornata triste per me e per tutti noi. Io credo che Paolo ha rappresentato per l'Italia un simbolo di quell'anno e ha rappresentato la gioia, la felicità di un mondiale vinto dopo tanto tempo. Cosa posso dire? Lui doveva venire a Matera perché voleva vedere questa città, tra l'altro molto bella, mi diceva che doveva venire con la moglie. L'ultima volta che ci siamo visti, a parte che abbiamo un canale Whatsapp, è stata a Maratea, lui mi ha chiamato, ha voluto che partecipasse anch'io a questa manifestazione. Era una grande persona, mi mancherà. Lo stesso dolore che ho provato quando è morto il nostro caro Erasmo Iacovone. Purtroppo la vita è fatta anche di queste cose e sono tristissime. È una giornata triste per me. Grazie a tutti.